Per di qua! No, ti sbagli! Dobbiamo fidarci dei guanti alfa, Riff! Per una volta io mi fido di Riff! Ma non può essere! Il segnale indica dritto davanti a noi! Ciò significa che se vogliamo trovare quei frammenti, dobbiamo attraversare il mare! Allora vuol dire che l'avventura è già finita, a meno che una nave non compaia magicamente dal cielo! Come quella? Oh! Ma come c'è arrivata lì? Io ho una domanda migliore! Come la facciamo scendere? Bene, sembra che il guanto ci stia dicendo che abbiamo bisogno di quella nave! Ma è assurdo! Non riusciremo mai a spostarla! Ehi, l'hai spostata! Ragazzi, concentratevi! Dobbiamo tirare giù quella nave! Lo faremo insieme! Non concentriamo abbastanza energia! Forse nei guanti qualcosa non funziona! Ma il lord dei Solark in persona ci ha detto... Che cosa aveva detto? Liberate il potere degli elementi! State sbagliando qualcosa! Come? Io starei sbagliando? Ho sempre fatto in questo modo e ha sempre funzionato! L'energia alfa è più complessa! Per questo ci serve una concentrazione maggiore per liberarla! Così! Beh, impressionante! Provo io! Gorm, ti salviamo! Arriviamo! Ragazzi, abbiamo un problema! Sì, lo so! Aaron sta per rappare di nuovo! Senti qua, senti qua! Sai qual è la verità? Se l'energia alfa vuoi domare, aggiungi un po' di classe e così niente! Ti potrà fermare! Aaron, sai, ecco... Basta, ok? Perché? Tu hai un'idea migliore? Ehi, ha funzionato! Fermo, Aaron! Canalizza l'energia alfa nei tuoi guanti con quella posa! Non mi muovo! Non mi muovo! Sparita! Ma l'energia alfa non dovrebbe essere ultrapotente? Tranquilla, Oki! Siamo sulla strada giusta! Sento di nuovo quella sensazione di avventura! Dobbiamo fermare il crollo di quella roccia, altrimenti... Ciao, ciao, avventura! Evochiamo un gormita! Aaron, tocca a te! Il tuo guanto sembrava funzionare! Ha luccicato per un po', ma adesso... Già, la batteria è scarica! Probabilmente ci manca qualcosa! Sì, i nostri gormiti! Loro sono la chiave per vincere tutte le sfide! Andiamo, alfa guantino! Non farmi fare brutte figure! Abbiamo bisogno di te! Accenditi! E questa cos'è? Quella è la spada alfa! È la chiave! Questa è la chiave per vincere! Lord Sol parlava di questo! È ufficiale, Oki ha perso la testa! No, ha ragione, Riff! Ricordate, Lord Sol ci aveva detto chiaramente di liberare l'energia degli elementi con i guanti! Sì, intendi letteralmente liberare l'energia degli elementi! Incredibile! Vale la pena tentare! Coraggio, Aaron! Usa il guanto per liberare l'energia alfa ed evocare subito un tuo gormita! Bene! Gormiti! Potenza degli elementi! Furia del cosmo! Combatti! Typhoon! Vendicatore cosmico! Sì, ha funzionato! Sei grandioso, amico mio! Puoi dirlo forte! Il merito è tuo che mi hai donato questi nuovi poteri cosmici, guardiano! Perché non ho potuto scegliere quale gormita evocare? Nessuno è davvero in grado di governare l'energia alfa! Ok, Typhoon, amico mio, buone notizie! Tocca a noi adesso! Yeah! Furio Cosmico! Goal! Goal! Woohoo! Grande! Bravi, Aaron! Ci siete riusciti! È stato un gioco da ragazzi! Cavolo, ci è mancato davvero poco! Ci resta da spostare la nave! Forse stavolta avrò bisogno di voi, ragazzi! È una nave volante! Tra tutte le stramberie, questa sembra la più sensata! Oh, la cosa si fa ancora più stramba! Credo sia solo una delle tante sorprese che questo posto è in serbo per noi Già, ora ci manca solo che la nave volante sappia anche parlare Ha appena detto, reggetevi forte Qualcosa mi dice che sarà meglio ascoltarla! GORMETI!